Ho la sensazione che le premesse sono quelle che dice lei, si sono sommati diversi motivi di protesta e addirittura adesso diversi attori della protesta, il vostro servizio oltre al tema agricoltori, gli esodati, il super bonus, la gente dello spettacolo, stiamo all'agricoltura. Si sommano proteste sulle scelte della politica nazionale, in particolar modo i nostri lavori si sono concentrati sul tema esenzione IRPEF, decisione del governo di togliere questa esenzione in legge di bilancio, poi tornati indietro su criteri leggermente diversi. Ma forse il cuore vero è la protesta circa le politiche europee, il Green New Deal, e diciamoci la verità, su quella proposta Timmermans ha fatto discreti danni. Ma perché ha fatto discreti danni? Non perché ha messo a fuoco l'obiettivo sbagliato, l'obiettivo è giusto, cioè governare una transizione ecologica che abbia minore impatto sull'ambiente. Questa transizione ecologica riguarda tutti, riguarda me, Cattaneo, Dragoni, lei, i ceramicai di Sassuolo e gli agricoltori. Che cos'è il punto di facilità degli agricoltori nelle richieste che fa l'Europa? Una situazione di margini produttivi e di guadagno sempre più ridotti, perché se io dico ai miei ceramicai che devono mettere i filtri per l'aria e i depuratori per le acque, loro brontrono, dicono ma perché in Turchia, in Cina, in India la produzione non li mette? C'è un vantaggio competitivo. Se a me, Dragoni, Cattaneo e lei ci chiedono un po' di cambiamenti di costruzione, riusciamo a farli. Quando ti chiedono investimenti sulla trasformazione del prodotto, sul processo, i pesticidi, la lavorazione, fermi tutti, ma ce la facciamo nel momento in cui non abbiamo i margini di guadagno, la politica dovrebbe concentrarsi su come a quegli agricoltori torniamo a mettere condizioni di sostenibilità economica nel loro lavoro per consentirgli di farla la tradizione ecologica, non per dire non esiste. Non per evitare di farla. Questo per me è il cuore di questa discussione.